Lo so, si dice spesso che quando una persona incontra un narcisista possa rimanere un po' abbagliato, affascinato, ma credo che sia proprio per il senso di importanza, il fatto di sentirsi speciali, il sentirsi con questi diritti in più degli altri, il fatto di avere molto chiaro sempre quello che vogliono dagli altri. Tutte queste caratteristiche li rendono effettivamente molto affascinanti. E allora non c'è da stupirsi se ci rendiamo conto che molte persone rimangono attratte dal narcisista o dalla narcisista perché queste caratteristiche che loro hanno sono davvero molto molto attraenti. E poi non dimentichiamo che sono bravissimi anche a recitare la parte del seduttore o comunque del conquistatore, o di colui o di colei che appaiono premurosi, gentili, persone veramente molto educate, che riescono sempre a capire ciò che hai nel tuo animo. E questo addirittura potrebbe portarli ad apparire persone che sono degne di ascolto, perché riescono a capirti, perché capiscono i tuoi punti deboli, li centrano tutti. E allora dici, perché mai non potrei fidarmi di una persona con tutte queste caratteristiche positive? Però chi li ha incontrati o le ha incontrate ha ben presente, come poi si riveli sotto questa maschera di apparenza, tutto un altro tipo di personalità, che è dovuta al disturbo, il disturbo narcisistico di personalità. E quindi poi, tolta la maschera, appaiono freddi, egoisti, solo interessati a se stesso e ad ottenere ciò di cui hanno bisogno. Ma questo è solo sotto la maschera. E chi li ha incontrati forse ha fatto anche l'esperienza che è difficile resistervi, perché sono carismatici, sono persuasivi, determinati, sembra che abbiano tutto quello di cui necessitano, che non gli manchi nulla. E queste caratteristiche li rendono molto attraenti. Addirittura, a volte, si vorrebbe essere come loro, cioè così brillanti, appariscenti, in gamba, sempre al centro dell'attenzione e di grande successo. Allora, dobbiamo ammettere che molte volte c'è qualcosa di magnetico in loro che ci attrae fortemente e a cui è difficile resistere. Quando li si incontra nel primi periodi, sicuramente loro appaiono felici, soddisfatti della propria vita, realizzati, soprattutto i narcisisti overt, appaiono forse un po' pieni di sé, che si sentono forse troppo superiori agli altri. Ma d'altro canto, questo loro modo di essere li rende anche attraenti, affascinanti, difficili da resistere. E quando li si incontra e hanno questa grande fiducia in se stessi, questa sicurezza che ostentano nei confronti di tutti gli altri, delle cose che affrontano, questo li fa sembrare veramente molto attraenti, perché sembra che abbiano il controllo sulla propria vita, che siano realizzati autosufficienti. Ma se avete seguito anche altri video sul narcisismo, pubblicati anche su questo canale, sapete benissimo che dietro alla maschera che mettono in mostra nei primi incontri, nei primi tempi in cui si frequenta con o una relazione sentimentale o in un'amicizia, dietro questa apparente maschera di sicurezza c'è un io estremamente fragile che disprezzano e dal quale cercano sempre di fuggire attraverso questi comportamenti di ostentazione. E allora danno tantissimo nelle prime fasi di conoscenza perché vogliono ottenere qualcosa e perché sanno che non riusciranno a mantenere questa maschera per lungo tempo. E allora potremmo definirli esperti numero uno nel fare ottima impressione al primo incontro. Perché se vogliono, quando sono nella fase chiamata anche love bombing o comunque nella fase di conoscenza riescono a far sentire importantissime le persone che hanno di fronte, a farle sentire speciali, a metterle a proprio agio. E queste loro capacità di capire i bisogni e i punti fragili e deboli delle altre persone li rende molto efficienti ed efficaci nell'ottenere ciò che vogliono. E poi sono anche molto affascinanti perché sono eccitanti, hanno tantissime energie da spendere, sono divertenti, hanno un senso dell'avventura molto forte per cui riescono veramente a far vivere dei momenti speciali alle persone che incontrano. Perché sono sempre in movimento, hanno sempre bisogno di sperimentare, hanno bisogno di qualche avventura nuova. E se allora lo si incontra o la si incontra in un viaggio diventa una persona da seguire perché è molto carismatica, perché sa sempre cosa vuole fare, indica sempre quali sono le cose più interessanti da vedere in un viaggio o da fare durante una vacanza. sono quello che si ritiene un'ottima compagnia e la loro grandiosità, il loro modo di essere al centro dell'attenzione è veramente molto divertente. E allora non stupiamoci, se quando si parla di narcisisti si parla molte volte di persone che sono molto affascinanti, che riescono a ottenere molto anche nella vita e che possono apparire anche ottimi ascoltatori. Perché nella fase iniziale in cui li hai incontrati, loro vogliono apparire il meglio possibile, spendono tantissime energie e vogliono che tu abbia un'opinione di loro altissima. E all'inizio hanno sempre tempo per te e cercano sempre di farti stare bene. Molte volte hanno anche delle attenzioni per cui ti senti capito o capita, cioè sai che si preoccupano per te, ma la realtà, come abbiamo già detto in tanti altri video, è che non provano questo tipo di empatia e quindi non sono in realtà preoccupati, è solo una facciata. Se sono brevi ascoltatori è perché un giorno useranno quello che tu gli racconti contro di te. Lo useranno come pugnali per ferirti e sono affascinanti e seduttivi e interessati a te perché cercano di conquistare tutta la tua attenzione e di poter essere così in grado di manipolarti nel momento in cui hanno bisogno e lo avranno anche molto velocemente. E allora, a questo punto, sappiamo che hanno fascino, sappiamo che hanno talento nel conquistare le altre persone, che sono bravi ascoltatori per capire tutte le informazioni di cui hanno bisogno, capiscono i tuoi bisogni perché sapranno come utilizzarli nel momento in cui avranno dei desideri da esordire, ma tu devi iniziare a prendere atto del fatto che è troppo tutto insieme, è troppo veloce, anche nell'amicizia. Due, che trattano male le altre persone, comunque non sono uguali a come si comportano con te, con gli altri o di come parlano degli altri o di come hanno vissuto le relazioni precedenti o come hanno trattato gli amici precedenti. Tre, ogni volta che tu senti che c'è qualcosa di dissonante, perché ti dicono di tenerci molto a te, però poi ti spingono a far cose che tu non vorresti, ti ricattano perché è comunque importante che tu riesca a portarvi quella cosa, li hai visti, hai pensato che ti trattassero come una regina o come un re e in realtà ci sono delle volte che ti criticano aspramente di fronte alle persone a cui tieni o comunque in maniera immotivata. quando inizi a registrare queste dissonanze è importante che tu le tenga tutte ben presenti perché forse non sei di fronte a una persona particolarmente brillante ed eccezionale, ma sei semplicemente di fronte a un narcisista o a una narcisista che sono dotate di grandissimo fascino e che sanno sempre fare ottima prima impressione.